Sì, sì, adesso lasciami alcuni, guarda, un po' di tempo, perché me lo accetto, ma su Google Video cerca, vedi Laura e Abbiatevi, ma anche salta fuori. Ma tu hai un buon'opera a casa, dai, hai l'ammaginato. Ehm, sai come vai? Eh, lo sai dai. Faccio 50 visite al giorno, non sono mica tante, però insomma considerando che non è che usi metodi particolari per promuoverlo, eccetera. No, 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 no. Ma è molto lungo, tu mi riso. Metropolis.blog.com Tu cerca Metropolis Blog, in italiano dovrai essere il primo risultato che ti ho avuto. Ti so, insomma, è stata comunque, non so se lo fai, ma Google. Hai chiesto da prendi più flanghe? No, dalla canzone dei Devine Theater. Oh, Dio mio, non mi direi che sono i Procmettersi. No, 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 sì, io, tu mi riesce, ho tutto, ho tutti gli album.